Che cosa mi rappresenta? Eh, l'ho scelto un po'... si può dire? A caso, a caso, l'ho scelto a caso. Per i bambini è un fungo, per i grandi diverso. È stato un ton 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 party all'insegna della goliardia, il martedì grasso, al carnevale di Putignano. Un evento incorniciato da una grandiosa parata di carri in carta pesta e maschere che hanno ammaliato e divertito le migliaia di visitatori a corse per la terza sfilata dell'edizione numero 630 del carnevale di Putignano. I maestri cartapestai e i gruppi mascherati hanno catapultato il pubblico in un viaggio del tempo coloratissimo, da un elegante belle époque parigina agli scatenati anni 60, passando per la rivoluzione industriale con un Charlie Chaplin stralunato, la nascita della televisione e persino salti nel futuro con robot e intelligenze artificiali che mettono nel sacco il genere umano. Una fine solo simbolica però, visto che sabato 17 febbraio si attende il grande closing party del carnevale di Putignano N630 con gli ospiti speciali Amadeus e Giovanna Cibitillo. Ho provato chi è sbucciata? Nessuno! Nessuno! C'è il cambio della guerra quando? I don't know speak English. I don't know speak English. Anche io! Anche io!